E' stato sorpreso con le mani nel sacco all'interno di una scuderia in località Nocetella, proprio dal giovane proprietario ed è stato così bloccato dai carabinieri, già impegnati in zona, per una serie di controlli. A finire nei guai un 50enne italiano, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. Da questa zona, negli ultimi giorni, sono arrivate molte segnalazioni per furti in abitazione, che hanno portato i carabinieri a mettere in campo un'azione di controllo del territorio rafforzata, soprattutto nell'arco orario serale e notturno, dalle zone più isolate ai centri urbani. Nelle maglie dei controlli questa notte è così finito il 50enne, sorpreso a frugare all'interno della scuderia mentre accumulava attrezzi da lavoro nel tentativo di portarli via. Ad allertare i militari, il proprietario, notata la presenza del ladro prontamente bloccato, recuperata e riconsegnata anche l'area furtiva dal valore di circa 2.000 euro. Il 50enne è stato arrestato per furto in abitazione e giudicato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato la misura restrittiva e disposto per lui l'obbligo di permanenza in casa durante le ore notturne e la presentazione quotidiana al comando dell'arma.